www.molecciopoli.it, un piccolo aforisma di educazione finanziaria che dice testualmente una delle cose più divertenti del mercato azionario è che ogni volta che un uomo compra un altro vende ed entrambi pensano di essere astuti. William Fahler. Il giusto prezzo è la sintesi di questa citazione. William Fahler è un famoso scrittore ed editore americano vissuto a Cleveland. Oltre che per i suoi aforismi, quello che ho appena citato, Fahler celebra il suo libro The Business of Life, uscito nel 1949, che ha già fatto poi guadagnare l'appellativo di filosofo del business. I compratori e i venditori, spiega Fahler, sono chiaramente d'accordo sul prezzo nel momento in cui la domanda e offerta si incrociano. Se l'accordo è concluso, il primo è soddisfatto per essere stato in possesso di azioni a un determinato prezzo. Il secondo è altrettanto contento per essere riuscito a vendere azioni a quello stesso prezzo. Ma che cosa vuol dire? Che nonostante la cifra pattuita sia identica, il valore che ciascun attore attribuisce a quelle azioni è diverso. Il compratore probabilmente penserà che le azioni acquistate saliranno ancora e quindi vedrà un guadagno. Tutto si potrebbe ricondurre a un'intuizione dell'economista britannico William Stanley, che per primo ha definito l'economia come un calcolo matematico del piacere e del dolore, il cui oggetto si può riassumere come una massimizzazione della felicità acquistando piacere al mino il costo in termini di dolore. Ripetiamo l'aforisma. Una delle cose più divertenti del mercato azionario è che ogni volta che un uomo compra, un altro vende ed entrambi pensano di essere stati astuti. Una buona riflessione e un buon weekend da Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Alla prossima!